Scena e favorisca i documenti. Lo sa a che velocità andava? Tele laser, segna 75. Sul disco c'è scritto 50. Quindi o l'apparecchio è malfunzionante o è stato manomesso per far fessi i poliziari? Guarda, io non volevo fare fesso a nessuno. Io essere padre di famiglia come tu, sto lavorando. Per favore, facciamo una cosa. Io aiuto voi e voi aiutate me. Tentare di corrompere un pubblico ufficiale è un grave reato. Eh no, agente. Non ci faccio a casa. È straniero, si è sbagliato. Anche con l'acceleratore si è sbagliato, no? Con il cronotechigrafo si è sbagliato, no? Procediamo con le verifiche. Seguiteci in officina. Che vuol dire? Vuol dire che se c'è manomissione ci sarà il sequestro. Come sequestro? Per favore! Ispettore, per favore! Mi dispiace, seguiteci! Se non sa cosa succede con mio capo, mi manda via! Non posso perdere lavoro!